Una riconferma voluta dalla società Mariano Petricciuolo, classe 2000. Dopo un settore giovanile importante con la squadra del Portici, già dall'anno scorso in maglia bianco-verde. E ora questa riconferma, come dicevamo, gradita da entrambe le parti. Ti sei ritrovato qui dopo il salto di categoria con tanta voglia di fare questa Serie D in maglia bianco-verde. Sì, abbiamo aspettato con ansia questa promozione. Finalmente dopo la tanta attesa è arrivata. Siamo contenti, ora lavoriamo piano piano per fare questa Serie D che la società, i tifosi e tutti abbiamo voluto tanto. Certamente ci aspetta un campionato importante con tante squadre ben costruite, ma il Rotonda sta lavorando bene. Le tue sensazioni di questa fase di precampionato? La squadra si sta formando, il gruppo si sta formando, stiamo lavorando bene giorno dopo giorno. Le sensazioni sono positive. Per il momento ci stiamo allenando bene, lavoriamo giorno dopo giorno per arrivare pronti il prima possibile al campionato. Come hai vissuto i momenti di pausa per un ragazzo che è abituato a stare in campo, a scherzare con i compagni, a lavorare sodo nel rettangolo di gioco? Certamente ci sarà stato qualche momento di tristezza, di incertezza. Sì, è una pausa lunga perché non eravamo mai stati abituati a una pausa così lunga. È stata difficile viverla a casa non sapendo della situazione che sta accadendo fuori. Speriamo che adesso passi tutto il prima possibile. Ti piace svariare su tutto il fronte offensivo? Naturalmente sceglierai il mister la tua posizione, però vedi la porta, ti piace cercare di saltare l'uomo? È un modo di giocare, chiamiamolo, divertente? Sì, le caratteristiche sono queste qua. Ora tocca al mister decidere dove giocare e tutto. In bocca al lupo. Credo.